Ben trovati da Nikos di Trebi Meteo. Sabato cambia l'assetto barico sulla nostra penisola perché l'alta pressione è in rinforzo sull'Europa centro-orientale, quindi proteggerà un po' tutto lo stivale dal maltempo. Instabilità invece ancora recidiva tra Sardegna e Sicilia perché la zona di bassa pressione sarà isolata proprio tra la Tunisia ed il mar Tirreno. Andiamo a vedere quindi la nuvolosità, ancora un po' di nuvolosità che ruoterà attorno a questo minimo di bassa pressione in quota e quindi della variabilità sulle regioni del sud ma i temporali concentrati tra Sardegna e Sicilia e bassa Calabria. Prossima grafica ci conferma di fatti ancora localmente ombrelli aperti soprattutto sulla Sardegna orientale più esposta ai venti dei quadranti orientali appunto e poi la Sicilia rischio qualche fenomeno. Altrove andrà meglio con delle schiarite anche ampie, addirittura sulle centrali tirreniche potremo sfiorare i 26-27 gradi. Dettagli maggiori approfonditi scaricando l'app gratuita di Trebi Meteo.